Che si fa a Ferragosto? Era questa la domanda che fino all'estate 2019 si ponevano i pesaresi abituati all'imbarazzo della scelta offerto dal loro territorio fra spiaggia, scampagnate e il refrigerio dei fiumi nelle aree interne. Quest'anno la domanda è cambiata e piuttosto si è costretti a chiedersi cosa non si può fare a Ferragosto? Le risposte puntuali arrivano dalle ordinanze comunali che dicono come a Ferragosto sarà comunque festa ma festa distanziata. A Pesaro sarà ancora previsto l'uso della mascherina in ogni luogo pubblico affollato. Saranno vietati i balli e l'animazione dovrà essere fatta senza concerti ma con musica d'ascolto per un pubblico che si attiene al distanziamento sociale. Nulla di nuovo insomma Ferragosto non fa eccezione rispetto ai giorni d'estate che l'hanno preceduto. Sarà festa distanziata ma comunque festa. Lo assicurano i tanti gestori degli stabilimenti balneari soprattutto quelli delle spiagge sottomonte che non rinunceranno agli eventi programmati. Insomma divertirsi non è vietato se si usa senso di responsabilità e gestori degli stabilimenti sono decisi a ergersi a primi garanti dei controlli. Molti attrezzandosi di security e buttafuori che vigileranno sul rispetto delle regole. Naturalmente a vigilare sarà anche la polizia locale e per chi sgarra il conto è salato. Le multe vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di 3.000 euro. Situazione molto simile a Fano dove il sindaco Seri invita a proseguire con i comportamenti esemplari fin qui tenuti. Dal mare all'acqua dolce quello dei fiumi del nostro entroterra è un pienone annunciato sul quale sarà più complicato vigilare. Un must che non passa mai di moda dalla gola del furlo alle marmitte dei giganti a fossombrone, dalle acque rigeneranti del bosso e del burano a Cagli e Cantiano fino alle piscine naturali di Parchiule. Chi a Ferragosto preferisce un bagno di cultura ha invece di che sbizzarrirsi con l'apertura di tutti i musei comunali di Pesaro. Dai musei civici a Casa Rossini, dal Museo Nazionale Rossini alla Domus di Via dell'Abbondanza, da Villa Imperiale all'Antiquarium di Colombarone, dal Centro Arti Visive Pescheria al Museo della Marineria. A Candelara si potrà visitare Candelararte a Ferragosto, a Urbino ci si tuffa nell'effascino delle celebrazioni raffaellesche. Chi invece vuole assaporare il 15 agosto fin dalle prime luci dell'alba troverà a Sant'Angelo in Lizzola note d'estate dal tramonto all'alba. Sonorità jazz, pop e rock accompagneranno il tramonto del 14 agosto per poi svegliarsi con un concerto all'alba.